bene amici sempre più tristi le pianticelle in questa aiuola in realtà ci sono cespugli un po migliori ma era solamente una scusa per iniziare il video con la solita ripresa macro ravvicinata qua siamo arrivati al controluce giornata grigia a milano dovrebbe piovere un po abbiamo polveri sottili alle stelle questo è stato il pan veloce questa la fontana adesso ci spostiamo un attimo ridacchio perché le ragazze si erano fermate per farmi fare il video e gli ho detto di passare zoom massimo 8x schiaccio per rimettere a fuoco quindi ho tappato sul display torniamo indietro camminata per valutare la stabilizzazione video umi iron pro il telefono che lo sta girando a 1080p mi fermo per vedere da fermi come come riprende e niente presto vedete la recensione completa